Sono molto contenta di poter essere qui questa mattina a parlare di questi argomenti sull'efficienza energetica e sul ruolo dei contratti cosiddetti di rendimento energetico, gli Energy Performance Contract. Ovviamente il mio contributo sarà un contributo che verterà sugli aspetti economici del problema, visto che la nostra agenda economico-politica europea mette al centro dell'attenzione l'efficientamento energetico. Non solo, ma l'efficienza energetica è sicuramente uno strumento che può fungere da volano economico per tutta una serie di innovazioni, dei processi produttivi e questo ci fa capire come anche le imprese debbano rivedere in sostanza la loro filiera e come il valore della filiera produttiva delle imprese debba essere un po' rivista alla luce dei principi dell'economia circolare, ma anche e soprattutto alla luce degli obiettivi che la comunità europea ci suggerisce di raggiungere.